sono felice di partecipare anche se tramite un video a torino spiritualità una delle manifestazioni che considero più romantiche, più filosoficamente combattenti e più generose che esistano tra le diverse manifestazioni culturali che avvengono in Italia io sono rinchiuso come sempre, questa volta in un albergo, per fortuna c'è un cielo benigno e quindi ho anche uno spazio di un balcone, non solo il chiuso di una stanza rispondo alle domande ricevute, complesse il respiro il respiro è l'inizio di tutto il respiro è la nascita stessa si piange perché siamo strozzati quando si esce dalla pancia della madre ci sembra da negare respiravamo dentro il meraviglioso luogo dell'eguda amniotico avevamo il nostro cordone umbilicale eravamo un tutt'uno poi ci separiamo e la separazione è innanzitutto soffocamento l'ossigeno che ci entra nei polmoni ci strozza per qualche secondo e poi invece ci dà la vita la metafora terribile ho usato la parola metafora cioè del del soffocare metafora perché il soffocare della pandemia rimanda al soffocare dei diritti so che sembra una forzatura ma non lo è le migliaia di morti avvenute nel Mediterraneo per cercare di arrivare sulle nostre sponde sulle sponde europee sono morti soffocati da strozzati per annegamento in questo momento il covid ci cementifica i polmoni ma sta soffocando i diritti di movimento di privacy per combattere questo male che esiste a rischio c'è tutta la democrazia ecco perché il respiro che coincide con la vita non può che anche essere un respiro di libertà la prima cosa che ci manca quando siamo oppressi quando io vivo in queste dannatissime stanze sempre chiusa e respiro tiro così in una macchina blindata tiro così inutile pensare che il tirare così l'aria mi dia libertà eppure continuo a farlo perché è il respiro l'istinto che coincide con il movimento con la libertà con l'esistenza e quindi sì oggi che difendiamo il nostro respiro dal virus ci rendiamo sempre più conto che abbiamo spento strozzato oppresso tolto aria dai polmoni della libertà dei regimi seriani turchi la situazione infame del lavoro nel sud Italia che toglie l'aria e benché io condivido con la Sontag mai la malattia come metafora mi è venuto il male perché sono peccatore mi è venuto il male perché ho agito il male significa qualcos'altro quindi condivido con la Sontag che la malattia come metafora è il tema scivoloso è pericolosissimo in questo caso non è la malattia come metafora è la malattia che mi aiuta a comprendere la dinamica in cui ci troviamo le parole in tutto questo cosa possono possono innanzitutto raccoglierci cioè la separazione la paura dell'altro che noi abbiamo la parola può fare breccia in questa separazione sempre più spessa e sempre più complessa è una separazione fisica che però diventa anche psicologica e l'altro è una costante minaccia attenzione l'altro non è una minaccia come in guerra perché la guerra quando poi c'è un trattato di pace quando ci si toglie la divisa l'altro smette all'istante di essere nemico qui l'altro non ha colpa che è nemico indipendentemente dalla sua volontà e questo rende tutto più complicato stiamo perdendo libertà vero? il terrore ci porta a dare tutta la nostra fiducia in mano al potere in cambio della salvezza è un vecchio meccanismo un giorno si racconterà di come i governi hanno gestito malissimo questo virus di come il capitalismo sia stato il responsabile vero e come l'assenza di democrazia è il criminale regime comunista cinese probabilmente una delle strutture più terribili violente corrotte che l'umanità abbia mai visto questo è il regime comunista cinese un'aberrazione con pochi precedenti simili nella storia dell'umanità eppure ci sembra in qualche modo simpatico poter raccontare quel mondo come un mondo sia autoritario ma di grande efficienza è un mondo infernale dove la dissidenza è colpita con anni di carcere con esecuzioni veloci processi farsa laogai cioè che sono i continui campi di concentramento una comunicazione completamente manipolata e la Cina ci dice è un regime che odio con tutto me stesso se è chiaro come tutti i regimi comunisti e come tutti i regimi è un regime che sta riuscendo a far passare un messaggio chiaro la libertà non è così fondamentale in cambio ti do l'efficienza se lavori ti spacchi la schiena hai talento avrai una buona casa sposerai bene avrai oggetti di cui godere ti do la sicurezza quindi non verrai rapinato non verrai ucciso e se non prendi posizioni politiche quindi un ucciso da un rapinatore intendo se non prendi posizioni politiche nessuno ti verrà a perseguitare e quindi ti do la sicurezza sociale la sicurezza economica in cambio mi prendo la tua libertà puoi avere delle idee puoi avere anche dei vizi ma entro certi limiti cioè queste idee e questi vizi non devono compromettere la forma in cui io regime voglio che esista la vita anche la tua vita quindi il vizio lo devi nascondere in coni d'ombra ma se poi vieni beccato io devo punirti lo tollero fin quando non sei beccato lo punisco se c'è luce il dissenso politico puoi puoi sottilmente attraverso strategie provare a cambiare qualcosa ma se davvero ti poni come innovatore riformista o come critico devo eliminarti la stessa cosa succede nella Turchia di Erdogan la stessa cosa succede nell'Iran nell'Iyatollah nelle democrazie le cose sono diverse ma si sta andando verso un autoritarismo di questo tipo la pandemia ce lo sta facendo vedere salvami in cambio mi dai tutto anzi salvami in cambio ti do tutto ti salverò in cambio voglio tutto ecco questa è la dialettica in cui siamo mi chiedete un libro c'è un libro che mi è molto piaciuto Futurabilità di Franco Berardi Bifo un filosofo libertario che avete sicuramente incontrato più volte è tuttora un grande raccontatore di cibernetica di filosofia della libertà di di etica e in questo libro lui mappa la situazione in cui ci troviamo il moralismo di sinistra che ha dato una possibile apertura una grande apertura alla destra che oggi fa sentire più comodi più liberi spesso i suoi militanti in fondo qualsiasi cosa a sinistra una parola sbagliata si è subito aggredito un comportamento considerato in errore e paragonato a un crimine essere a sinistra significa sostanzialmente che o sei un mistico che non ha fatto nulla e non fa nulla o qualunque cosa delegittima la tua voglia di giustizia quindi se hai voglia di combattere le ingiustizie sei infedele a casa sei subito uno che sta facendo contraddizione sei tra amici mentre sei brillo bestemmi sei immediatamente uno schifoso no fai errori hai fatto una fesseria hai sbagliato ecco una delle cose che si faceva a Hong Kong credo che si faccia tuttora in alcune scuole di Hong Kong è dare i buoni voti solo a chi sbaglia ai compiti di matematica perché è solo attraverso l'errore che si cambia mentre chi fa bene il compito di matematica non ha il voto perché ha già realizzato e quindi sei già soddisfatto invece tu hai buoni voti quando sbagli quando il maestro il prof capisce che il tuo errore non è stato un errore così perché sei pigro e non hai fatto il compito proprio perché hai sbagliato spesso hai sbagliato tutto però ti sei impegnato hai cercato bene noi con queste aggressioni impediamo mi ricordo Spitzer il procuratore newyorkese che stava combattendo contro la finanza che aveva creato i derivati che aveva devastato la vita quindi ucciso aveva devastato la vita di milioni di persone ucciso la sicurezza di migliaia e migliaia di persone con le sue speculazioni magari migliaia milioni ancora oggi stiamo pagando quelle speculazioni quindi devastazione della democrazia e Spitzer deve dare le dimissioni perché aveva fatto l'errore di andare a prostituto ok il dibattito suo con se stesso chi gli vuole bene ma possiamo equiparare una cosa del genere gente politici che con le loro scelte uccidono politici che con le loro scelte devastano e politici che hanno un orizzonte che cercano di battere e combattere e però scivolano quindi cosa ci rimane da fare soltanto una persona mistico un santo francescano può combattere le ingiustizie perché ti basta poi un errore un ragazzato un vizio per scivolare via essere considerato una persona in contraddizione una persona incoerente una persona ipocrita ecco il libro Fulgarabilità di Bifo racconta molte cose lo schifo di mondo in cui viviamo la tristezza in cui tutto che è misurabile col danaro o con una visione estetica costruita chiaramente dalle aziende perché sfilano questa è una riflessione che ho fatto io partendo anche dalle sue riflessioni perché sfilano queste modelle bellissime diventano il modello perché il messaggio che ti sta dando la moda è se compri questo vestito sarei bella così e quindi io quella bellezza la devo rendere irreale perché se quella bellezza è una bellezza nostra naturale perché naturale intendo dire che è nelle cose che non nasce dalla fame che devi mangiare poco da molte palestre da una fortuna genetica a quel punto il vestito quella bellezza la posso raggiungere anche senza quel vestito invece io ti metto una bellezza irraggiungibile così che tu possa sempre sentirti brutta sempre sentirti inadeguata e devi passare per quel vestito e quindi ecco perché hanno costruito la modella così se invece la modella fosse stata altezza media ma con altro tipo di dettagli e bellezze non era più il centro il vestito tutt'altro sarebbe stato al centro il suo sorriso il suo occhio il suo sguardo e tutto il resto quindi è tutto un trucco una truffa la moda truffa è il suo mestiere è una truffa creativa ma è una truffa io ti devo suggerire solo così sarai così bella ma nel momento in cui tu dici ma quella bellezza è una delle tante non è che quella bellezza è veramente bella la stai costruendo la bellezza anche erotica nasce dall'altro dall'altro nella misura col paccio il seno ma figuriamoci proprio la bellezza quella che ti incendia intendo non quelle paraculate che dicono sei un tipo o la bellezza è dentro no no la bellezza è dentro quando emerge fuori e fuori emerge non tramite il naso l'occhio ma tramite la complessità del proprio aspetto che racconta se stessi sto andando oltre insomma sono stato felice di essere con voi vi abbraccio forte e viva Torino Spiritualità grazie a tutti